Musica Musica Che qui di compensazione sa tanto perché Deve essere tranquillamente chiamato Il fallo e basta Intanto Black Shield si discatta con Questo ottimo gioco Musica Corna dietro Oltre l'arco adesso è 75 Va dentro per Celvi che ha Ottimo tempo per schiacciare A superare Eric Lombardi Quattro secondi Giocata per Buva che va A schiacciare Possesso per la Georgia DC Group Scambio in Hally Hoop Per Alex Kirk Che schiaccia Black Shield difeso da Sederini Che lo porta sul lato Qui però Black Shield ne esce In modo stupendo Chi Viva B Ma A A B A B A A B B B A B Grazie.